Si sentono abbandonati gli abitanti dell'Idroscalo a Ostia. Lo scorso settembre è cambiato l'orario di accesso del terzo ingresso al porto turistico, quello che affaccia proprio su via dell'Idroscalo, anticipando la chiusura dalle 19 alle 17. Ci ha non solo limitato, ma ci ha creato dei problemi non indifferenti. Avvieta le persone di poter vivere come tutte le altre persone, accedere al porto, come si accede dal lungomare o dall'ingresso principale, e andare a prendere un caffè, un gelato, una famiglia al sabato, tutta la famiglia riunita avrebbe piacere di andare la sera lì a mangiare il sen gelato. Non può perché mica tutti poi sono possesso dell'autovettura. E chi non c'è l'autovettura che fa? Deve andare a prendere l'autobus, al suo punto va a Ostia. Sicuramente se io fossi una persona senza autovettura e avessi la famiglia me ne andrei tranquillamente a Ostia, a mangiare un bel gelato, mettere a Piazza Ancomazio e mi mangerai un bel gelato. Poi riprendo l'autobus e torno a casa. Non prendo l'autobus per arrivare a metà strada, poi fanno un pezzo a piedi, poi entra nel porto centrale, sempre un bel pezzo a piedi, e poi sempre ritornare e fare tutto il gelato, ma sono pelle che ho mangiato. E poi la cosa che veramente a noi ci mortifica i cittadini dell'idroscalo, questa recinzione con questa gabbia con filo spinato, è veramente vergognoso. Noi di questo ci offendiamo. Un altro problema molto sentito dai residenti riguarda le condizioni dell'asfalto, che non viene rifatto da decenni. Erano dieci anni che non fanno la strada qua. Vengono, attappano le buette con l'acqua dentro, che regge. Quando piove poi non si vedono le buche e uno ci va dentro con le ruote della macchina e si rompe il cerchione, si buca la gomma, eccetera, eccetera. Da quanto tempo non rifanno la strada su questo tratto? Qui la tappano con delle pezze che dopo due giorni vanno via, un po' dei catramme, vanno così con la bala e basta. In tutto ciò non mancano problemi di illuminazione della strada e di manutenzione del verde. Attualmente non c'è un marciapiede. Io normalmente quando vengo in giù a piedi mi vedo al senso contrario delle macchine. E comunque da questo lato c'è l'erba. Quindi anche se io viaggio in senso contrario, che io vedo le macchine, ma loro comunque sto in mezzo alla vegetazione e non riescono a vedere me. E di notte è pericolosissimo, perché veramente rischi che viene investito. Non è possibile così.